...di storicità. Quando ho incontrato questi signori, eravamo seduti a tavola e a un certo punto mi hanno fatto vedere una fotografia che mi ha agghiacciato della locanda come era circa 100 anni fa, che era appunto in Vini e Oli praticamente. D'oggi è un ristorante bellissimo, veramente. Complimenti, complimenti. Dobbiamo poter raccontare, nel senso che noi siamo lì da tantissimi anni, ormai noi personalmente sono quasi tutti giù. Il locale è stabilito da una vita, prima di noi, quindi noi abbiamo continuato piano piano a portare avanti questo discorso. Siamo solo io, lei e i miei figli, quindi sì, diciamo che abbiamo scoperto che c'era prima di noi una locanda proprio non in quel punto, ma su Pia Saraglia c'era praticamente una posta dove si fermavano ovviamente tutti. Risale addirittura al 1800, si fermò addirittura Garibaldi, come dicono almeno, documentati da Libri e tutte varie. Sì, è vero, c'era posta perché noi siamo piccolissimi, 32 coperti, quindi facciamo un po' una cosa tipo piccola per pochi intimi e fino adesso va tutto bene. Poi, come ripeto, giustamente come ho sentito, c'è il discorso del rimanere sul posto per tanti anni, poi conosci tutti. Via Filomarino è una via insignificante perché praticamente è una traversa davanti di Lala a scendere verso Via Fogliano, dietro il Cinema King, non la conosce nessuno. Però noi stiamo lì da tantissimi anni e conosciamo tutti. Io mi sento più a casa lì nel locale che non a casa dove vado quale sera a dormire perché viviamo là dalla mattina dalla sera e noi siamo là. Ma noi stiamo a dormire e così mi passano. Vedi, anche la signora è l'anima di questo ristorante poi, no? Effettivamente, giusto signora? Eh sì, la signora è proprio l'anima perché io quel giorno ho scoperto che è una grande cuoca, tra l'altro. Eh sì, infatti lei è proprio l'anima di questo posto. Sì, 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 sì. Grazie a voi, grazie davvero.